Ciao da Silvia del progetto Migliori Libri, il canale dove i lettori tornano in cerca del prossimo libro ideale. Se non conosci il canale e la sua coraggiosa missione, prima di questo video, mi raccomando, guarda il video introduttivo. Oggi sono qui per delucidarvi sull'importanza e sui super vantaggi degli abbonamenti al canale e per ringraziare l'ormai affiatata community di lettori elettrici che, alla faccia degli scettici, ogni giorno di più sta dimostrando che in Italia, di gente interessata alla lettura e a una crescita culturale costante, ce n'è come. Se tu fossi una di queste persone e volessi contribuire a velocizzare l'ardua missione letteraria che tutti insieme stiamo portando avanti, sappi che da oggi potrai farlo nel più semplice e rapido dei modi, anche abbonandoti ad uno dei diversi livelli di abbonamento disponibili sul canale. Ciò consentirà a me di incrementare la produzione di contenuti mantenendo gli standard degli impegnativi format ai quali ormai siete abituati, magari soddisfacendo finalmente le richieste che tutti i giorni ricevo nei vostri bellissimi messaggi, e a voi sostenitori di ottenere l'esperienza esclusiva che vi meritate e che si compone dei privilegi che trovate elencati vicino ad ogni livello di abbonamento. Privilegi che vanno dalla minima possibilità di soddisfare il vostro ego sfoggiando medagliette meritocratiche e utilizzando le stilose faccine nei commenti, fino alla possibilità di accedere a tutti i contenuti esclusivi, compresi dietro le quinte dei video in redazione, le papere durante le riprese che puntualmente mi fanno ridere come una scema mentre monto i video, e tutti gli altri contenuti e vantaggi esclusivi che trovi elencati all'interno dei diversi livelli e che potranno evolvere nel tempo al fine di offrire un servizio sempre più utile per tutti. Che dici? Ce la faremo tutti insieme a lasciare un vero segno? Abbonati ad un livello adeguato e parliamone in privato nell'area nascosta che ti si aprirà subito dopo. Ti aspetto lì.